Un vecchio lago a servizio della centrale di Altanon, pronto ad essere riconvertito in punto d'attrazione per gli escursionisti che percorrono i sentieri della via dell'acqua. Poco sotto l'abitato di San Vettor Vesessa, tra San Gregorio nelle Alpi e Cerniai, grazie al finanziamento del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, il comune di Santa Giustina sta realizzando questo bacino alimentato da acqua di risorgiva. Le stesse acque che al momento tramite una diga in pietra del secolo scorso, consentono di riempire i laghi d'accumulo della centrale idroelettrica. Ad illustrarci i dettagli è il sindaco Ivan Minella. Siamo all'interno del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi a San Vettor Vesessa, questi sono i laghi di Altanon, è il lago della Vasca Grande che riforniva all'inizio del secolo scorso la centrale di Altanon. È un lago che è stato poco usato all'inizio della centrale e poi dismesso per non funzione. Il lago adesso verrà riconvertito, sono 5.000 metri quadrati con funzione naturalistica e paesaggistica. Sarà un parco che lungo la via dell'acqua, che dal piave va verso la montagna, sarà un bellissimo panorama, un bellissimo paesaggio per quanto riguarda le tante persone, sia turisti che cittadini, fanno questo percorso nel nostro comune. Il primo cittadino santa giustinese spiega quali siano gli interventi svolti o di prossima esecuzione. Il lago non sarà a servizio della centrale perché è già sufficientemente capiente per quanto riguarda i laghi di accumulo. Il lago ha avuto un intervento di bonifica interna, delle superfici, delle sponde, di bonifica muraria per quanto riguarda la diga, ricordiamo che è una delle rarissime dighe in pietra, quindi molto antiche, e tutta una serie di sistemazioni dell'anello attorno al lago con la creazione di un ponte e delle nuove paratie di controllo.